Sono partita dalla lettura dei sonnetti di Shakespeare con l'idea di costruirci su delle opere, opere che dovevano essere leggere e trasportabili perché anche invecchiando non riesco più a portare i quadri un metro e sessanta per due che facevo fino a poco tempo fa. Ho avuto l'occasione di poter utilizzare questa fantastica carta laottiana che ho preparato in tre o quattro modi differenti che è molto difficile da fare e che dà però risultati veramente straordinari. Molta parte di questa esposizione è dovuta alla qualità di questa carta straordinaria che mi è stata fornita direttamente da una guida che avevo conosciuto in Laos. Era successo che questa carta me l'aveva mandata sbagliata, così gliel'ho fatta mandata due o tre volte praticamente la pazienza fatta a persona e in queste occasioni ci siamo conosciuti, mi ha mandato delle cose da tradurre, le famiglie, ho fatto amicizia per cui è diventata un'avventura personale reciproca incredibile. In questo mondo così arido, così difficile trovare una disponibilità, un'affetto, una qualità di famiglia, di persone così alte è stata un'esperienza straordinaria.